E' stato denunciato per i danni provocati all'interno della Chiesa e per il turbamento delle funzioni religiose. Si è conclusa così la movimentata vicenda che lo scorso martedì aveva scatenato veri e propri attimi di panico all'interno della parrocchia di Pescaiola. Erano infatti le 18, proprio durante la recita del Rosario, quando un 36enne cittadino nigeriano già noto alle forze dell'ordine aveva dato in escandescenze in via Alessandro Dalborro. Prima aveva iniziato a saltare sulle auto in sosta, poi era entrato nella chiesa di Sant'Agnese spaventando i fedeli raccolti in preghiera. L'uomo, un richiedente protezione internazionale, stando a quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato, si era diretto verso l'altare e alla vista degli agenti aveva raccolto un vaso e lo aveva scaraventato a terra per cercare riparo in sagrestia. Il 36enne era stato così seguito dalla prima pattuglia, ma era uscito dal retro della chiesa ritrovandosi in un cantiere. L'uomo, in preda ad una fortissima agitazione, qui aveva iniziato ad urlare. Fuori dalla chiesa era stato infine bloccato da una seconda pattuglia della questura di Arezzo. Gli agenti, dopo averlo tranquillizzato, lo avevano convinto a farsi accompagnare dagli operatori del 118 intervenuti sul posto all'ospedale San Donato di Arezzo per le prime cure sedative. Per l'uomo adesso è scattata la denuncia.